Impatti 2 mm già va puoi mettere solo da 2 alla volta perché puoi mettere due due perché ogni due se corrispondono a quattro perché mi sono dovuto fermare ripigliare un attimo comunque Gino la differenza dopo il punto si sa si guida diversamente per quanto ancora non mi ricordo tutte cose però quando riesci a metterle in pratica l'ho dato pure io sensazioni in alcuni punti dici ma chi ti metti in piedi metti in questa posizione è vero però la cosa curiosa è che uno da solo non ci arriva che riesco a capire non vedi poco non hai senti ma soft o hard sinceramente la differenza non riesco a capire poco non è tanto più nell'alto che nel basso perciò allora che sto cambiando tutto nel basso sostanzialmente però non guidavo è inutile che la teglia no no basta che la sedia e la spegno